Paradossale, non sembra esserci altra parola per definire il momento del basket italiano e forse, pensandoci bene, il termine è anche benevolo perché se si analizza nei fatti quanto sta accadendo nel massimo campionato italiano, i giudizi potrebbero divenire ancora più critici. Lo scorso turno di Serie A ha sancito sul campo la retrocessione di Pistoia con un turno di anticipo. Una retrocessione che però potrebbe venerdì trasformarsi in una salvezza matematica per i toscani. Infatti la Comtec nella giornata di ieri ha richiesto 8 punti di penalizzazione per Torino rea di aver compiuto irregolarità nel pagamento dei tributi IRPEF e IBS. Venerdì il Consiglio federale ratificherà a meno di clamorose sorprese il meno 8 che porterebbe l'Auxilium all'ultimo posto e le consegnerebbe la retrocessione matematica in A2. Ma più che le questioni di classifica a sorprendere sono i dati che stanno venendo fuori nell'ultime ore. Le irregolarità tributarie della Fiat infatti sono partite, per quanto scrive la Commissione di Controllo Tecnico, già nel bimestre di marzo-aprile 2018. Un'infrazione che fosse stata rilevata al termine dello scorso campionato avrebbe dovuto portare alla mancata iscrizione dei sabaudi alla Serie A 2018-2019. Così non è stato e soltanto una segnalazione arrivata da una cordata in procinto di acquistare negli scorsi mesi la società gialloblu ha fatto scattare i controlli dettagliati della Comtec e un'inchiesta, al momento senza indagati, della Procura della Repubblica di Torino. Un caos che ancora una volta dimostra quanto il basket italiano non sia in salute. con buona pace del sempre ottimista presidente della FIP Gianni Petrucci.